Fate le cose che vi piacciono, fate le cose che vi fanno domani mattina svegliare un'ora prima. Cercate una cosa che vi faccia svegliare un'ora prima, del vostro compito. Non so che alla vostra età voi può sembrare difficile, ma dovete essere inquieti, molto inquieti, perché se no sareste imitati. Quando andate a casa con un'idea della vostra vita, e la spiegate, se tutti dicono, ma bene, giusto, avete detto una banalità enorme, era molto prevedibile. Se voi raccontate una cosa, tutti vi dicono, ma sei matta? Ma cosa c'hai nella testa? Ma dove vorresti fare questa cosa? Avete detto la roba giusta, sono tutti morti e voi salvi. È perfetto. Non dovete cercare consenso, lo dovete trovare dentro di voi consenso, non nella mamma, nella zia, nella bisnonna.